Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio, ci ritroviamo ancora su Genshin Impact perché oggi porto un video abbastanza semplice a dire la verità che però spero possa aiutare comunque molti ad ottenere il fastidiosissimo obiettivo del completamento dello stage a difficoltà top costruendo solo 12 torrette, quindi 12 su 14 e riuscire nonostante tutto a non far passare nessun nemico detto questo andiamo a parlare con la nostra amichetta Ruyjin che ovviamente ci permetterà di guardare la nostra tabella difficoltà 5 moltiplicatore 1.8 per quanto riguarda i nostri armamentari abbiamo maxato tutto quindi abbiamo tutta la nostra armeria a livello massimo e ciò che dobbiamo fare oggi come vi ho detto prima il team è permettere, anzi non permettere a nessun mostro di lasciare la zona tramite ovviamente il minigioco il team che andremo ad utilizzare sarà questo, come al solito vi ricordo per le varie interazioni elementali e detto ciò possiamo cominciare eccoci qua allora iniziamo a costruire allora la mia strategia per fare diciamo il tutto è stata questa quindi mettere due torrette fisiche da questo lato poi mettere una torretta di fuoco anche se in realtà adesso che ci penso la torretta di fuoco posso metterla qua perché l'angolo è più ampio e posso colpire i nemici in maniera diversa poi mettere elettrico qua ed elettrico qua ovviamente non costruisco troppo in avanti semplicemente per il fatto non costruisco troppo in avanti semplicemente per il fatto che i nemici spawneranno anche da qua dietro quindi è inutile andare troppo in avanti ora la cosa da fare sinceramente parlando è come prima cosa aprire il portale in questa prima fase perché se non avete jean quindi non avete la possibilità comunque di di far di colpire in tempo e quindi non far scarpare quelli veloci cioè quelli i maghetti quelli veloci quelli piccoli vi conviene aprire il ponte subito anche perché così lo avremo a disposizione quando ci servirà nuovamente ovvero alla fine all'ultimo stage e nel frattempo avere la possibilità poi di di non far scappare nessuno fin dall'inizio perché questi qua sono lenti sono veramente lenti quindi non abbiamo problema di nessun tipo però però gli altri i maghetti sono veloci quindi danno fastidio allora una volta fatto questo mettiamo elettrico prima che la wave finisca magari esatto benissimo e qui vediamo ecco no cost of interaction 50% pyro meccanici creo physical attack meccanici speed più 25% però 62 non posso permettermelo va bene aumentiamo l'attacco dei pyro che non è affatto male bene possiamo cominciare adesso i nemici appariranno soltanto da questa da questa parte quindi che cosa facciamo nel momento in cui i nostri avversari appariranno solo da questo lato vedete le torrette fisiche inizieranno subito a fare danno quelle di fuoco sparandoli in mezzo faranno danno melt quindi già tanta robetta le funzioni interattive sono di nuovo attive a questo punto torretta fisica anche da questo lato che ci permettono di concentrare il fuoco nemico e un'altra torretta fisica da questo lato ora che siamo a 12 costruzioni le ultime due che dobbiamo che dobbiamo costruire saranno semplicemente delle mine che piazzeremo una qua sì magari ecco che saranno una qua e un'altra da quell'altro lato queste saranno praticamente soltanto le nostre assicurazioni defeating monsters hydromeccanici hydro electromeccanici elemental mastery più 100 questo è ottimo perché sfruttare l'elemental mastery per ovviamente effettuare esplosioni di overload sarà molto importante overload ci permetterà di fare veramente tanto danno e quindi di conseguenza lo sfruttiamo come se non ci fosse un domani allora questi sono abbastanza facili da sconfiggere non c'è troppa preoccupazione perché sono veloci ma anche estremamente fragili quindi non abbiamo nessuna difficoltà e gli unici che danno problemi possono essere questi qua che praticamente come dire sono veloci ecco sono rapidi ma poi le torrette elettriche fanno praticamente tutto da solito cioè le torrette elettriche danno un vantaggio pazzesco perché hanno una lunga gittata e soprattutto riescono a tenere a bate i nemici frizzandoli perché proprio hanno questa caratteristica proprio di frizzarli hanno questa caratteristica proprio di frizzarli e poi quella messa al centro mi dà la possibilità di di essere più incisivo ecco ora vedete quello là che sta passando lì noi fortunatamente con la mina lo abbiamo praticamente sconfitto vedete le mine servono soltanto come precauzione fondamentalmente perché per un motivo o per un altro se qualche nemico dovesse passare dovesse scappare esplode e quindi lo riusciamo a battere è raro che succeda però vedete è successo perché effettivamente magari con la confusione i nemici tutti messi insieme poi qui potete mettere praticamente qualsiasi cosa volete ecco a me interesserebbe effettivamente questo però elettromeccanici attacco fisica attacco meccanici eh qua in realtà è interessante mettiamo sempre puntiamo molto sugli elettromeccanici sì voglio puntare molto di più sugli elettromeccanici ora qui ho un problema perché ci sono gli slime pyro gli slime pyro purtroppo sono immuni alle mine quindi bisogna assolutamente sconfiggerli prima cioè se riescono a passare è un guaio non dovrebbero perché comunque le le torrette elettriche riescono a fare un buon lavoro però ecco vedete là per esempio è passato quello slime ma noi con la mina lo abbiamo praticamente bloccato eppure non me ne erano passati così tanti la prima volta che ho fatto la prima volta che ho fatto lo stage non me ne erano passati così tanti sapete cioè me ne era passato soltanto uno proprio per sbaglio quasi e sono riuscito a fermarlo ma per il resto non mi erano mai passati così tanti nemici a dire la verità probabilmente perché questi qua pyro un pochettino mi hanno scombinato i piani effettivamente essendo immuni al essendo immuni appunto alle torrette pyro giustamente mi hanno scombussolato i piani allora pyro meccanici attacco elettro meccanici ecco questa qua sarebbe ottimo si guadagnano un 50% di danni bonus in più e vanno a stack quindi fino a 150% di danno allora qui l'unica cosa che dobbiamo fare dobbiamo fare attenzione sono questi due ruin guard iniziali i due ruin guard iniziali possono rivelarsi un problema possono rivelarsi un problema perché entrando in concomitanza con i rivici che ci sono di sotto mi impediscono di avere un rateo di fuoco molto elevato quindi nel momento in cui loro arrivano qui li facciamo cadere subito così tutto il fuoco viene concentrato da questa parte qui mettiamo nel frattempo anche mona che ci dà una mano perché i nemici pyro purtroppo ecco qua dobbiamo fare molta attenzione perché li riusciamo a colpire vedete però li lamina per esempio scoppiato proprio per un pelo mi è riuscito a scoppiare vedete questo è praticamente il fattore assicurazione che praticamente vi dicevo poco fa cioè il fattore assicurazione del della mina è esattamente questo perché nell'eventualità vedete non passano i ruin guard perché l'overload è è fortissimo cioè è un effetto potentissimo però vedete le torrette elettriche che comunque fanno il loro lavoro overload che ci aiuta in una maniera fantastica e nessuno riesce a passare manca solo un nemico ovvero questo ovvero questo nostro amichetto questo maghetto che tra poco farà una brutta fine e abbiamo completato lo stage vedete nessun mostro è scappato durante il processo abbiamo completato la stage abbiamo fatto tutto ovviamente non mi appare l'obiettivo del del completamento con 12 strutture perché l'ho già fatto quindi è un obiettivo che ho già completato e tra l'altro sono stato anche molto fortunato perché ho utilizzato una mina solo e non come questa volta che ne ho utilizzate di più ma appunto a causa del fatto che ho avuto una sequenza di nemici un po' sfigatella tipo i pyro slime sono una bella sono un bel dito lì dove non batte il sole però alla fine siamo riusciti a cavarcela detto questo spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere se già siete riusciti ovviamente a completare la missione delle 12 costruzioni e senza far scappare nessun nemico io detto ciò vi ringrazio per aver visto vi ricordo che siamo anche in live quasi tutti i giorni sul canale viola che trovate ovviamente in descrizione canale youtube discord tutto quello che volete se avete intenzione di trovare una piccola community in grado di potervi aiutare detto ciò vi ringrazio ancora per essere stati con me ci becchiamo alla prossima bye bye ciao